Popolo di internet, ben ritrovati in un nuovo video, benvenuti se è la prima volta che passate sul mio canale Io sono Uomo che sapeva troppo, per gli amici Uomo e qua di fianco a me c'è Sofia Falcone interpretata da Christine Migliotti, grande, unica praticamente protagonista del quarto episodio di The Penguin Cent'anni, cent'anni, così anche tra l'altro in originale, quindi double face insomma, in entrambi gli episodi, in entrambe le lingue sia in inglese che in italiano si intitolano così un episodio folgorante, un episodio super di passaggio in realtà, tra virgolette un episodio che serve a mettere un po' le cose in chiaro sul personaggio di Sofia che è chiaramente un episodio che ferma la narrazione rispetto a quello che stava succedendo la scorsa settimana pur riprendendolo nella prima parte non faccio spoiler in questi brevissimi istanti di inizio recensione dicendo che è l'ennesimo episodio maestoso che The Penguin tira fuori a livello di scrittura, a livello di interpretazione ripeto, l'intero episodio si basa, ruota attorno alla figura di Christine Migliotti che si mangia letteralmente tutto lo schermo per questa ora di episodio quindi fantastico, episodio interlocutorio, episodio che va a indagare il passato per riproiettarci poi nel presente partendo appunto dal tradimento, questo si può dire perché è avvenuto alla fine della scorsa puntata di Oswald, di Oz che era scappato con il nostro Victor e insomma aveva lasciato Sofia lì in balia di quello che stava succedendo fuori dalla discoteca quando insomma i due erano stati attaccati e Victor aveva deciso di ritornare, è arrivato con l'auto insomma il finale dello scorso episodio questo episodio quindi si concentra, posso dirlo appunto nella parte non spoiler su Sofia Oz e Victor sono scappati chissà dove e quindi vediamo un po', insomma ci viene raccontato effettivamente qual è la storia di questa ragazza, di questo impiccato così viene chiamato per via delle cose, è chiamata per via delle cose che ha fatto cioè una serie di uccisioni da serial killer ma insomma vedremo, vedremo come stanno come stanno le cose, capiremo come stanno le cose e nel corso dell'episodio, è ripeto un episodio fantastico che si svolge su diverse linee temporali, tutte ben gestite chiaramente parlando del passato di Sofia, Arkham è un grande protagonista di questo episodio io voglio uno spin off su l'Arkham Asylum dell'universo di Reeves, datemelo ovviamente era previsto, insomma doveva arrivare però poi è stato cancellato da Warner magari Warner ci ripenserà, chi lo sa lo scopriremo visto che The Penguin sta prendendo parecchi consensi non ho moltissimo da dire nel senso che è veramente un episodio di metà stagione tutto su Sofia e quindi a parte la bravura di lei c'è poco altro da segnalare se non magari un paio di cose che appunto forse discuterò nella parte con gli spoiler se non l'avete ancora visto correte a vederlo perché poi voglio che torniate qua a commentare non credo starete vedendo questo video se non avete mai visto The Penguin ma nel caso succedesse Dio mio guardate The Penguin perché è una delle serie che mi sta affolgorando di più quest'anno hanno tirato fuori una perla o svacca completamente nella prossima metà ma sperando che dopo questa piccola botta d'arresto di metà stagione ora si riparta, si ingrandi la quarta ritornando alla situazione che abbiamo lasciato nello scorso episodio boh mi sembra impossibile che possa peggiorare quindi bellissimo bellissimo e basta parliamo un po' di spoiler perché non c'è veramente altro da dire se non che è un episodio fantastico è l'ennesima prova di quello che può essere Gotham City di quello che può regalare il sottobosco di Batman senza anche che Batman debba comparire per forza questo mondo marcio malato fino al midollo insomma è fantastico ritrasmesso a schermo in maniera eccezionale scappate se appunto non l'avete ancora visto correte a vederlo e tornate qua dopo parte spoiler 3, 2, 1 pronti, 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 pronti il grande incastro di Sofia Falcone cioè vai a incontrare i giornalisti scopri che c'è qualcuno che sta uccidendo strangolando delle donne collegato a collegato a tuo padre e tuo padre che è indagato di questa cosa tuo padre che forse ha ucciso anche tua madre e quindi vai da questa giornalista e quello che succede è che ovviamente la famiglia ti deve punire ti deve punire e ti manda ad Arkham accusandoti degli omicidi che ovviamente non sono tuoi tra l'altro ci sono anche dei piccoli riferimenti molto fighi c'è la giornalista Gleason che c'era nella serie animata anni 90 di Batman che abbiamo capito Reeves ad ora e quindi cerca di far infilare i suoi scrittori nei vari show quando devono scrivere qualcosa Reeves gli dice prendete pescate nella serie animata anni 90 del resto Capet Crusader prodotta da Reeves è ispiratissima con l'anni 90 c'è il dottor Ventris che era Mirror Man nelle vecchissime storie di Batman e c'era un Ventrix con la X nella serie animata e poi c'è Magpie la Gaza pazza completamente un personaggio che tra l'altro paga la follia di Sofia proprio nell'episodio quando viene massacrata totalmente prima che lei venga presa assistiamo a un sacco di torture che Sofia si becca nell'Arkham Asylum dall'Elettroshock a qualsiasi altro tipo di tortura invasiva c'è quel momento con il divaricatore abbastanza chiaro e anche manipolatoria a livello mentale cioè lei è sicura di non essere il killer ma tentano di giocare proprio con la sua mente quasi per convincerla ad esserlo con una certa collusione probabilmente con i fattori esterni e con chi l'ha mandata lì ad Arkham episodio fantastico veramente Christine Milioti recita con gli occhi e con le piccole smorfie durante tutto l'episodio è straordinaria super straordinaria chiaramente capiamo perché è uscita dall'Arkham Asylum ma ancora più in cerca di vendetta in un mix di sanità e pazzia c'è la scena finale bellissima dove prima c'è questo momento a tavola appunto dove lei si fa amica alla bambina facendo delle boccacce poi vanno a dormire di nascosto nella serra come lei faceva da piccola e poi gasa l'intera villa finendo a finendo davanti a Johnny Viti dicendo dobbiamo parlare dobbiamo parlare c'è in realtà un po' di oddscob c'è un po' di pinguino nel senso che lo vediamo nel passato servire Sofia una Sofia veramente bipolare tra l'altro che a un certo punto dice tu sei solo il mio autista fatti i cavoli tuoi eccetera eccetera e sarà proprio lui in realtà poi a tradirla dicendo a Falcone che ha visto una giornalista quindi c'è un po' di pinguino che già fa il doppio gioco e infatti all'inizio dell'episodio quando c'è lui in macchina è bellissima la scena che noi abbiamo già visto però vista dalla parte di Sofia di lui che dice il labiale no vai 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 questa non me ne frega lasciamola qua dopo che ha detto tra l'altro alla donna di Maroni no no ma io sono sempre stato vostro prendetevi la droga era tutto un piano anche per stare con voi c'è proprio fino all'ultimo pinguino è pronto a tradire chiunque io lo ribadisco il povero Victor secondo me ha le puntate contate perché se non vogliono passarselo in The Batman parte 2 e passare un personaggio dalla serie tv al cinema a me sono sempre un po' strano secondo me farà la fine di tutti quelli che si sono fidati almeno una volta del pinguino quindi male 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 vedremo cosa succederà nel prossimo episodio nel senso che ripartirà probabilmente da dal finale del terzo quindi pinguino scopriremo il fatto di pinguino e Victor che in questo in questo episodio non si sono visti tranne nella parte iniziale in cui l'abbiamo visti scappare ma era qualcosa che avevamo già visto nello scorso episodio e sono veramente curioso di capire cosa succederà quale sarà la mossa di Sofia Falcone nel presente ora che sappiamo anche che trascorsi ha avuto quindi sappiamo che è pronta a tutto ma già lo sapevamo prima insomma quindi diciamo che il prossimo episodio il quinto fa ripartire un po' tutto da zero questi primi quattro hanno costruito un rapporto tra lei e pinguino che è andato immediatamente distrutto non credo che lei cascherà più in qualsiasi lusinga adesso sarebbe forse un po' troppo anche per la psicopatia di Sofia e adesso si riparte da capo la scacchiere è stata riposizionata pinguino versus Sofia pinguino versus tutti ovviamente e chissà i marroni poi come rientreranno in questo piano e chissà Victor perché comunque l'abbiamo lasciato che stava guidando e non stava proprio bene con quel sangue sulla faccia insomma completamente un po' sbarellato molto 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 curioso ripeto episodio interlocutorio che mi ha però lasciato di stucco proprio perché Sofia lo gestisce cioè Cristi Migliotti lo gestisce completamente con un'abilità pazzesca veramente incredibile io sono non lo so non so cosa pensare di un di questa cantante che nasce come cantante prima ancora che attrice veramente ha scoperto probabilmente la sua vocazione sono molto molto gasato da questa The Penguin non avevo tutta questa aspettativa nel senso che sapevo probabilmente di trovarmi davanti a qualcosa che sarebbe funzionato perché c'era il nome di Reeves tra i produttori comunque era definito il secondo capitolo della saga di The Batman ma mai avrei pensato che mi avrebbe lasciato incollato così davanti lo schermo alla fine di ogni puntata con la canzoncina di turno questa volta c'era Solon Goodbye sono sono veramente abbacinato da una serie del genere che mi mi sa sorprendere dovrà impegnarsi parecchio nelle prossime puntate nella seconda parte di questa stagione per riuscire a sconvolgermi come ha fatto fino adesso e vedremo vedremo cosa cosa succederà ci sono anche delle cose da chiarire in termini di Falcone di potere interno è veramente una famiglia problematica su chi può fidarsi di chi probabilmente quel cretino poveraccio di Alberto Falcone era il meno peggio lì dentro ha fatto la fine ovviamente del pesce del topo ucciso da pinguino lui era veramente lo spendaccione di turno e poco altro in mezzo a quella famiglia non so se devo dire qualcos'altro perché ripeto è stato un episodio abbastanza povero mettiamola così di possibilità future di scene eccetera perché si è molto occupato del passato l'ho già detto Arkham è splendida la figura di Magpie io l'ho adorata quel momento in cui si parlano attraverso la cella lei che impazzisce scrossa dalla cella tra l'altro le decorazioni della camera in cui troverà la madre in cui ha trovato la mamma impiccata da piccola quindi questo piano piano ricadere nella follia nel ricordo pezzetto di muro dopo l'altro infatti alla fine ha l'intera camera manifestata intorno a sé e c'è quel momento quel flashback ricordato di lei che trova la madre che è veramente agghiacciante non ho altre parole non so che altro aggiungere se non che sto veramente amando the penguin fatemi sapere la vostra nei commenti perché ci tengo a sapere cosa ne pensate vi aspetto tra l'altro su twitch sul mio canale per un sacco di live serali e non a volte dove parliamo di cultura pop a 360 gradi film serie tv fumetti videogiochi venite a trovarmi anche sui vari social vi consiglio soprattutto instagram dove faccio reel post sessioni di domande e risposte insomma sotto il video trovate un sacco di link utili per aiutare il canale e anche per raggiungermi in altri lead lo ripeto ancora una volta venite a trovarmi su twitch non ve ne pentirete ci facciamo un sacco di chiacchiere ed è sempre bello perché leggo tutti i vostri commenti sugli argomenti più disparati vi do dei consigli parliamo cinema venite venite a trovarmi su twitch anche perché lì di penguin si parla un sacco ancora più che qua su questi video ma nei commenti voglio sapere la vostra vi prego ovviamente se avete teorie domande cerchiamo di capire se è tutto chiaro per adesso e basta per il resto noi ci vediamo a un altro video il prossimo che caricherò qua sul canale in live e anche con il prossimo episodio di the penguin domenica prossima devo dire che sta diventando faticoso aspettare una settimana per ogni episodio nonostante io ami appunto il rilascio settimanale quindi è un diventare difficile ma pieno di felicità perché vuol dire che la serie mi sta veramente piacendo perché a volte arrivo a venerdì e dico già dai dai domenica è vicina non vedrò the penguin non vedo l'ora scatenatevi nei commenti fatemi sapere la vostra e basta state attenti a soffi milioti perché sono gentile carina minuta e poi invece attenzione che accende il gas e vi fa fuori ciao 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 ciao